Ciao, sono Antonio e sono un tutor GiaSchool. Oggi vediamo come si calcola il massimo comune divisore. Ma prima di iniziare ti invito a visitare il sito GiaSchool.it dove troverai altre lezioni di matematica. Inoltre ti invito ad iscriverti al canale per non perdere i prossimi contenuti GiaSchool. Iniziamo con un esercizio. Calcoliamo il massimo comune divisore tra 42 e 56. Cominciamo scrivendo il numero 42. Tracciamo una linea che ci permette di inserire i divisori. Adesso ciò che dobbiamo fare è trovare il numero più piccolo, ovvero il divisore del 42, escludendo il numero 1. Perché se faccio 42 diviso 1 fa 42. Quindi non ho diviso il 42. Partiamo allora provando con il numero 2. Se facciamo 42 diviso 2 otteniamo 21. Quindi 2 è un divisore di 42 ed è anche il più piccolo. Quindi va bene. Proseguiamo scrivendo il numero 2, il divisore, a destra della linea. Poi scriviamo il numero 21, che è il risultato della divisione, sotto al 42. Adesso dobbiamo fare lo stesso procedimento che abbiamo appena fatto, ma considerando il numero 21. Dunque dobbiamo trovare il numero più piccolo che è il divisore del 21, escludendo il numero 1. Se proviamo a fare 21 diviso 2, otteniamo 10,5, che non va bene, perché c'è la virgola. Quindi 2 non è un divisore di 21. Proviamo quindi con il numero 3. Calcoliamo 21 diviso 3, che fa 7. Quindi un numero senza la virgola. Dunque ora va bene. E quindi il numero più piccolo divisore del 21 è il 3. Chiaro? Scriviamo quindi il 3, il divisore, a destra della linea. È il 7, risultato della divisione, sotto al 21. Ora dobbiamo ripetere nuovamente il procedimento. Tuttavia, qui possiamo notare che il numero 7 è divisibile solo per uno e per sé stesso. Quindi 7. Devi sapere che tutti i numeri che godono di questa proprietà, cioè che sono divisibili solo per uno e per sé stessi, si chiamano numeri primi e sono dei numeri importanti in matematica. Quindi dai un'occhiata ai numeri primi e cerca di impararli. Proseguiamo dividendo il numero 7 per sé stesso. Dunque 7, poiché è l'unico divisore oltre all'1, che ti ricordo non dobbiamo considerare. Quindi, se facciamo 7 diviso 7, otteniamo 1. Scriviamo quindi 7 a destra della linea e il numero 1 in basso. Bene, quando arriviamo ad ottenere il numero 1 nella colonna di sinistra, dobbiamo fermarci, perché l'1 è divisibile solo per sé stesso. Ma non possiamo dividere per 1. Ricordi? Adesso possiamo affermare che il numero di partenza, il 42, è uguale alla moltiplicazione di tutti i numeri presenti nella colonna di destra. Quindi possiamo scrivere 42 uguale 2 per 3 per 7. Quello che abbiamo appena fatto per il numero 42 si chiama scomposizione in fattori primi. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa, la scomposizione in fattori primi, per il numero 56. Ti faccio notare che il numero 56 è un numero pari, quindi sarà sicuramente divisibile per 2. Infatti il 2 è il numero più piccolo che ci permette di dividere il 56. Quindi 56 diviso 2 ci dà 28. Un metodo veloce che puoi utilizzare quando ti trovi davanti a calcoli che sembrano difficili è quello che se ti trovi davanti ad un numero pari, come il 56, puoi sempre dividerlo per 2. Quindi il divisore più piccolo. Proseguiamo e scriviamo dunque il 2, il divisore, a destra della linea e il 28 sotto al 56. Bene, continuiamo con il numero 28. Lo hai notato? Sì, anche il 28 è un numero pari, quindi possiamo dividerlo per 2. Facciamo quindi 28 diviso 2 e otteniamo 14. Continuiamo con il 14. Anche questo è pari. Dunque nuovamente dividiamolo per 2 e facciamo 14 diviso 2, che fa 7. Adesso abbiamo il numero 7, che ti ricordo è un numero primo. Dunque è divisibile solo per 1 e per se stesso. Ricordi? Il 7 è il numero primo. Dunque 7 diviso 7 ci dà 1. Quindi scriviamo il 7 a destra della linea e il numero 1 in basso. Bene, anche qui siamo arrivati ad avere il numero 1 nella colonna di sinistra, quindi dobbiamo fermarci. Possiamo dire quindi che il numero 56 è uguale al prodotto dei numeri nella colonna di destra. Questa volta possiamo osservare che il numero 2 appare tre volte nella colonna di destra e dunque possiamo scriverlo come 2 elevato alla terza. Il numero 7 invece è presente una volta, quindi scriviamo 7. Ora possiamo dedurre che il 56 è uguale a 2 alla terza per 7. Adesso, scomposti i due numeri, possiamo calcolare il massimo comune divisore. Scriviamo quindi mcd aperta tonda 42,56 chiusa tonda. Ciò è uguale a 2 per 7, cioè i numeri che sono presenti in entrambe le scomposizioni in fattori primi e che hanno esponente più piccolo. Infatti possiamo osservare che il numero 2 è presente sia nella scomposizione del 42 che del 56 e appare con esponente più piccolo nel 42. Lì ha infatti esponente pari ad 1, che ti ricordo non si scrive. Anche il 7 è presente in entrambe le scomposizioni ed è sempre esponente pari ad 1. Dunque possiamo calcolare la moltiplicazione 2 per 7 che fa 14. Quindi il massimo comune divisore tra 42 e 56 è 14. Tutto chiaro? Bene, ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Se vuoi vedere altri esercizi di matematica invece clicca nel link in descrizione oppure vai sul sito jascool.it. Per oggi è tutto, noi ci fermiamo qui. Se non hai capito qualche passaggio riascolta la lezione con calma. Dal tutor Antonio è tutto, ciao! Grazie!